Senta Lorella, nel 2008 ho letto che avevate a che fare con circa 600 persone e poi questa cifra è diventata 1.500 nel 2013 o 12. Sì, nel 2012, i dati sono del 2012. Questa è un'ondata, ecco in questa ondata ci sono donne e uomini che hanno battuto alla vostra porta. Vediamo un po' un attimo questo aspetto, quante donne, quanti uomini, cosa è cambiato nel rapporto di chi donna uomo aveva bisogno di essere soccorsa? Penso che il cambiamento fondamentale, probabilmente quello che colpisce di più all'idale del donna uomo che sicuramente ai centri di ascolto è sempre stata molto più prevalente la componente femminile, che non la componente maschile, sicuramente nell'ultimo periodo si affacciano molti uomini che prima non si affacciavano a questa realtà. Ma la cosa che probabilmente colpisce di più è il fatto che la presenza italiana rispetto alla presenza straniera si è praticamente equiparata. Se un tempo, non tanto tempo fa, era forse la presenza italiana molto inferiore nel presentarsi al centro di ascolto, ora sono tantissimi gli italiani residenti che si presentano ai centri di ascolto. Quindi secondo me questo è proprio sintomatico di come le cose sono cambiate e di come la situazione si è aggravata, perché se prima era lo straniero che comunque era cosiddetto in una fascia debole, quindi non aveva una rete parentale intorno, era qui magari da poco, con tutte le difficoltà che potevano esserci, adesso invece è l'italiano, l'italiano che vive qui da sempre, che ha qui le sue radici e che si trova in grossissime difficoltà nell'arrivare alla fine del mese, forse arrivare alla metà del mese. E dal punto di vista dell'età, delle fasce d'età, che cosa è successo da questo punto di vista? La fascia d'età è una fascia d'età che appunto varia fra i 35 e i 50 anni, per cui si è molto abbassata, quindi è una fascia d'età in cui in realtà sei nel pieno della tua capacità lavorativa, dovresti essere nel pieno della tua capacità lavorativa e della tua possibilità di lavorare. Invece ti ritrovi magari cassa integrato o comunque l'azienda chiuso, quindi con difficoltà comunque di reinserirti lavorativamente nonostante tu sia in una fascia d'età giovane, quindi tu sia lontano comunque dall'idea di una pensione e tu sia però nell'impossibilità magari anche di riciclarti e di reinserirti lavorativamente, quindi sei un po' tagliato fuori da tutto ed è questa fascia dei 35-40 anni fino ai 50-55. Questo di cui ho sentito parlare, cioè una fascia particolare sembrerebbe, a meno dati che esulano dalle vostre ricerche, che vada 45-55 più o meno. Sì, è la fascia più esposta, è la fascia più critica perché comunque sia magari tu hai anche un'esperienza lavorativa di un certo tipo che hai maturato per un tot di anni e nel momento in cui ti trovi fuori è anche difficile pensare di ricollocarti perché magari anche quelle tue capacità è difficile riempiegarle, per cui quello su cui noi stiamo anche riflettendo con le progettualità su cui lavoriamo adesso è proprio anche questo, è cercare di trovare anche delle formule, dei training formativi che in qualche modo riqualifichino le persone che si trovano in una fascia di età ancora abili, più che abili al lavoro e però sono fuori dal mercato del lavoro. Ecco, proprio questo volevo sapere perché recentemente voi avete avuto un incontro con le istituzioni lucchesi, con le fondazioni, in cui avete cercato per livello provinciale di fare sistema in qualche modo, cosa è venuto fuori? È venuto fuori un progetto che si chiama Lavoro, Inclusione e Sviluppo Locale a cui partecipa il Comune di Lucca e la provincia di Lucca ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha proprio questo scopo, in realtà il target di persone a cui si rivolge è il target tra i 40 e i 50 anni con un target anche più giovane perché poi ha variazioni questo progetto e lo scopo appunto è questo, è la possibilità di attivare attraverso voucher lavoro, attraverso tirocini piuttosto che stage formativi, dei training di formazione di riqualificazione, riattivare un po' queste capacità che queste persone che sono rimaste fuori dal mercato del lavoro hanno e potrebbero ancora riempiegare. È riusciti a contattare molte persone? Allora noi siamo ancora in una fase abbastanza organizzativa, quindi siamo ancora in una fase organizzativa di questo progetto per cui siamo ancora lo studio delle varie azioni e delle varie appunto requisiti e caratteristiche che cercheremo di contattare nello specifico con questo progetto, per cui ci sarà un coinvolgimento come già c'è da parte del Comune piuttosto che dei centri per l'impiego, quindi ci sarà una sinergia generale di tutte le risorse. Quindi maggiori comunicazioni anche, quindi maggiori comunicazioni, maggiori capacità di raggiungere l'individuo in difficoltà. Certamente sì, perché cercheremo di essere veramente capillari sul territorio in modo da coinvolgere più soggetti istituzionali e non solo, proprio per aggiungere più persone possibili. Senti Lorella, c'è un problema particolare per quanto riguarda Viareggio e l'emergenza a casa. Vi sono state recentemente anche polemiche piuttosto dure in seguito a degli sgomberi e c'è chi ha fatto notare che lo sgombero è sempre una soluzione abbastanza critica, anche perché spesso si separano le famiglie in fase di sgombero. Ecco, voi io so che proprio sulla zona di Viareggio avete dei progetti, ma avete, come dire, che cosa succede? Si può evitare lo sgombero in queste condizioni? Soprattutto deve essere evitato che le famiglie siano separate, oppure cosa ne pensa? Sì, sicuramente sì. Ora è vero anche che appunto poi dipende da situazione a situazione, ogni caso è diverso, quindi lo sgombro è proprio, diciamo, forse l'ultimo step di tutta una serie di situazioni che magari si sono accumulate nel tempo, si sono accavallate, su cui è anche difficile talvolta intervenire in un certo modo piuttosto che in un altro, per cui è ovvio che lo sgombro è il momento più doloroso, no? Perché c'è questa situazione difficile, poi da gestire, no? Di nuclei familiari, per cui sicuramente è una cosa difficile. Penso nessuno arriva mai a cuor leggero a questa fase, si cerca veramente di fare il possibile. Ora è oggettivamente un problema l'abitazione, è un problema enorme che va al di là delle considerazioni magari che possiamo fare noi, anche perché, diciamo, è un po' tutto collegato, no? La mancanza di lavoro, le difficoltà, le cose, poi portano la persona a non avere più la possibilità di pagare l'affitto piuttosto che la rata del mutuo e quindi non far fronte a quello che sono poi la problematica abitativa e quindi è un concatenamento di eventi negativi che si sommano e che poi portano la persona purtroppo ad avere dei problemi enormi e la difficoltà anche nelle soluzioni. Per quanto ci riguarda è veramente un problema enorme, noi partecipiamo alla Fondazione Casa, per cui abbiamo la diocesi, ha aderito a questo progetto, ha messo a disposizione degli alloggi che la Fondazione Casa con dei fondi regionali ha ristrutturato e ha messo a disposizione delle famiglie a prezzi calmirati, a particolari requisiti. Quindi cerchiamo, dove è possibile di lavorare anche in questo senso di recupero, di immobili? Ma sai perché le dico questo? Perché c'è chi dice che pagare l'affitto per persone che escono da un modo forzoso, per esempio, da sgombero o altre situazioni, per queste famiglie e persone costa di più che non un piano di produzione di alloggi popolari che poi vengono affittati a prezzo calmirato. Questa è un'idea che ho sentito circolare molto. Questo potrebbe essere una cosa che ovviamente, non essendo all'interno delle istituzioni, faccio fatica a dirle quello. So che in realtà c'è questo interesse da parte anche dei comuni nella realizzazione di alloggi, di edilizia popolare. È ovvio che le risorse sono quelle che sono e quindi la difficoltà poi di riuscire a fare nuovi alloggi o a ristrutturare gli alloggi che ci sono. Per cui è sicuramente una situazione difficile, una situazione che in qualche modo si è fatta molto presente anche alle istituzioni negli ultimi anni e che si cerca anche di capire quali sono le possibilità di risoluzione, perché ovviamente ha anche dei costi non indifferenti, per cui ci vorrebbe l'impegno di investimenti non indifferenti. Quindi probabilmente in questo momento è anche difficile pensare a delle strategie o delle ipotesi. Penso che appunto quello che noi facciamo, che è veramente una goce in mezzo al mare, perché poi quello che possiamo fare mettendo a disposizione questi alloggi, poi le ristrutturazioni, ovviamente sono segnali, sono messaggi che vengono lanciati e che si spera che in qualche modo poi anche le sinergie che intorno a tutto questo possano nascere siano poi proficue, possano poi portare a degli sviluppi ulteriori. Ovviamente è un momento difficile, è oggettivamente un momento difficile in cui le risorse sono veramente poche, però si cerca magari di trovare anche delle strategie che queste poche risorse possano essere messe a sistema in maniera proficua. Bene, noi la ringraziamo per essere venuta ai nostri studi e parlarci di queste problematiche e auguriamo alla Caritas un buon lavoro per il futuro. Grazie. Grazie.